carissimi pace pace del signore buona giornata a tutti quanti voi oggi 25 aprile leggiamo con l'aiuto del signore nel libro del profeta abacuc al capitolo 2 ci soffermeremo sul verso 14 dove scritto poiché la conoscenza della gloria del signore riempirà la terra come le acque coprono il fondo del mare abacuc ha una visione che riguarda gli ultimi tempi del regno di giuda e mentre da una parte annunzia il castigo di un popolo che si era allontanato dalle vie del signore dall'altra parte parla anche di un tempo di salvezza per tutti coloro che avrebbero esercitato la fede è famoso il verso di abacuc che poi viene ripreso nel nuovo testamento dove viene affermato che il giusto vivrà per fede e quindi c'è da una parte il dolore la desolazione dall'altra parte c'è invece una speranza una speranza di vita di vita reale di vita piena per coloro che riescono a confidare nel signore e a prendere la decisione di praticare gli insegnamenti del signore ed è proprio in riferimento a questo che nel verso 14 il profeta dichiara che tutta la terra vedrà o meglio realizzerà la conoscenza della gloria del signore e sicuramente questo messaggio può essere inteso in relazione all'annunzio della buona novella dell'evangelo che come sappiamo dovrà raggiungere tutta la terra anzi quando l'evangelo sarà predicato ad ogni creatura allora ci sarà il ritorno del signore e questo messaggio che viene ancora oggi predicato è un messaggio che ha delle implicazioni positive e dei risultati benefici per tutti coloro che lo ascoltano e lo ricevono nella propria vita e proprio per questi suoi risultati la grazia di dio ancora oggi rappresenta l'unica speranza per l'umanità sia in relazione al futuro eterno perché non ci può essere salvezza all'infuori di cristo sia in relazione al presente perché laddove c'è l'accoglimento della grazia lì dimora la benedizione del signore e laddove c'è la benedizione di dio allora lì ci sono guarigioni liberazioni pienezza di spirito santo eccetera eccetera tuttavia credo che il profeta non volesse dire soltanto o che tutto questo avrebbe riguardato semplicemente l'annunzio dell'evangelo da parte dei credenti e quindi l'accettazione della salvezza ma anche il fatto che oltre alla salvezza con l'annunzio dell'evangelo vi sono una serie di benefici che l'umanità e l'uomo riceve e che sono definiti dall'apostolo paolo come quelle benedizioni spirituali che ci sono state elargite in cristo nei luoghi celesti e noi stamattina vogliamo veramente chiedere al signore che egli possa arricchirci arricchirci dei suoi delle sue ricchezze è vero gli uomini su questa terra si affannano per poter accumulare beni di questo mondo per poter avere case per poter avere soldi in banca per poter avere gioielli eccetera se tutto questo è frutto di un lavoro onesto ed è finalizzato anche a dare aiuto a quanti si trovano nel bisogno ben venga ma prima di queste cose noi dobbiamo ricercare le ricchezze spirituali perché dice la parola di dio che molti di quelli che si danno alla ricerca della prosperità materiale su questa terra spesso fanno naufragio quanto alla fede e noi non vogliamo naufragare quanto alla fede ma vogliamo anzi crescere prosperare andare avanti e quindi vogliamo distogliere lo sguardo anche perché l'amore per il denaro sappiamo bene essere la radice di ogni male e sappiamo bene che questo amore porta spesso a perdere di vista la realtà delle cose qualcuno ha paragonato quest'amore un po come a quel filo o meglio a quel film di argento che viene posto dietro un vetro e permette di poter realizzare uno specchio fin quando questo film d'argento non c'è il vetro è trasparente si può vedere oltre quello che c'è dietro il vetro ma quando questo film viene a posto inevitabilmente la persona non può vedere oltre vede sempre e solo se stesse così avviene per coloro che si danno alla ricerca sfrenata dei piaceri e dei beni di questa terra si arriva a diventare egoisti egocentrici a pensare soltanto a se stessi ai propri bisogni dimenticandosi che ci sono cose più importanti cose più belle cose più gloriose ma noi invece vogliamo con tutto il cuore ricercare ciò che va al di là delle cose di questa terra vogliamo chiedere che dio ci possa riempire delle sue della sua grazia e delle sue benedizioni e vogliamo adoperarci affinché la conoscenza della gloria del signore possa veramente raggiungere ogni uomo ogni donna affinché tutti possano sapere che c'è un dio che ha creato il cielo e della terra un dio che è interessato all'uomo che è frutto del suo volere tant'è che fu dio a prendere del fango della terra a modellarlo e a farne un'anima vivente e c'è un dio che è interessato a dare vita eterna vita esuberante un dio che è interessato a ricolmare di benedizioni perciò coraggio cari diamo il nostro cuore al signore permettiamo a lui di servirsi di ognuno di noi adoperiamoci per le cose eterne diamo un po meno importanza alle cose di questa terra e permettiamo ad altri anche tramite la nostra testimonianza non solo verbale ma innanzitutto pratica di poter venire a conoscenza della gloria della bellezza della potenza della ricchezza del nostro salvatore che dio ci accompagni in questo nuovo giorno e che dio si serva di noi affinché qualcun altro possa conoscere la ricchezza e la bontà di colui che ci ha tanto amati da dare il suo figlio per la nostra salvezza la grazia la pace l'amore la presenza di dio sia con tutti quanti noi dio ci benedica insieme salvezza la grazia